bentornati a una nuova puntata di buongiorno verona live sono le 12 e 12 minuti e siamo in diretta sul canale 640 del digitale terrestre tele radio adige e in streaming sul sito radio adige.com e sulla nostra pagina facebook e siamo qui con i nostri primi ospiti di oggi del mondo dello spettacolo diamo il benvenuto ad aurora ziviani ea davide detogni di festival indomati benvenuti insomma è un piacere avervi qui anche perché oggi andiamo a presentare un festival che è una prima edizione ed è un festival molto particolare più che altro molto interessante perché dà spazio dalla voce ai giovani attori giusto spiegate un po di cosa si tratta allora questo festival è nato da noi tre che siamo io davide toni e clara danese che oggi non può essere qui con noi è nato da un incontro a bologna noi abbiamo studiato io al dance ho studiato teatro e loro all'accademia di recitazione alessandra calante garrone esatto e siamo tornati qui siamo tornati a verona dopo i nostri studi e abbiamo sentito la necessità di trovare un luogo uno spazio che desse una possibilità a questi giovani attori che vogliono diventare professionisti che ancora magari ci stanno lavorando e per cui si è nato con questa idea di avvicinarci ai giovani avvicinare anche i giovani al teatro ecco anche voi definite tra l'altro tre giovani sognatori adesso vediamo qual sito sulla pagina di altri posti in piedi c'è la sezione dedicata proprio indomati festival tre giovani sognatori un desiderio in comune la fame di un'arte indomata cioè anche qui vi siete definiti dei sognatori perché alla fine effettivamente il mondo del teatro il mondo dello spettacolo effettivamente non è così non è per tutti diciamo confermate sì sì poi il tutto deriva anche da appena finito il percorso di studi a bologna in una città comunque culturalmente piena di eventi tornando tornando a verona città naturalmente stupenda ma con alcune magari lacune dal punto di vista di eventi culturali e altro abbiamo sentito proprio la necessità di cercare di trovare uno spazio dove poter dare la possibilità come si diceva prima di esprimere il nostro teatro e questo è molto bello e allora adesso visto che abbiamo spiegato di cosa si tratta andare un attimo a sviscerare il programma insomma quali sono gli appuntamenti che partono stasera quindi attenzione stasera prima serata del festival partiamo con matrice teatro è una compagnia con vari membri da vari di varie città varie regioni che partono tutte da una stessa città che è bologna con una cosa bella dopodiché domani sarà una compagnia di pisa voci sbagliate con atto ripetuto venerdì sera sarà una serata diciamo un mix tra danza teatro degli oggetti e ci sarà un concerto con i duck baleno che suoneranno e poi sabato si andrà con la simmetria t artistiche che è una compagnia di bologna si farà uno spettacolo itinerante all'interno del teatro e si finirà in bellezza con uno spettacolo di alessandro casiglia che un altro artista di origini siciliane anche lui è residente a bologna è insomma un programma particolarmente fitto ricco e ragazzi da tutta italia veramente c'è riuscite a dare voce veramente abbiamo cosa abbiamo sondrio abbiamo sondrio genova da roma da province di milano sicilia verona anche verona perché siete carichi siete pronti per iniziare pronti adesso tutti in mano al destino mi dobbiamo vedere cosa viene fuori no no adesso ovviamente in bocca a l'uva per stasera perché è la serata d'apertura però sicuramente immaginiamo ci saranno poi anche altre occasioni l'anno prossimo magari per una seconda edizione una terza insomma così via noi vorremmo crescere sì al nostro intento è quello mi sembra assolutamente giusto e adesso vi farei una domanda che insomma a che fare sempre con il mondo degli spettacoli perché chiaramente sappiamo che nell'ultimo anno e mezzo il settore non ha vissuto come tutti gli altri settori non ha vissuto un bel periodo insomma anzi è stato molto anche sottovalutato da certi punti di vista voi come l'avete vissuto voi siete del settore allora per quanto riguarda noi abbiamo una fortuna nel senso questo cinema teatro astra è uno spazio che noi possiamo utilizzare quindi in tempo di pandemia quello che siamo riusciti a fare è utilizzare questo spazio ci siamo chiusi dentro abbiamo creato uno spettacolo un cortometraggio quindi diciamo che da un certo punto di vista non ci siamo fermati quello che è mancato naturalmente al confronto col pubblico e naturalmente una condizione professionale in grado di poter anche santenerci diciamo di quello è mancato non solo per il mondo del teatro però ha subito già non andava bene da già prima questa è stata una bella mazzata confermo anch'io io durante la pandemia stavo finendo i miei studi per cui mi sono trovata molto in difficoltà una volta laureata in realtà soprattutto dopo una pandemia il lavoro era difficile era molto difficile da trovare però ce lo siamo creati bene beh questa è una bella cosa e tra l'altro date voce anche voi come dicevamo prima ad altre persone che hanno hanno bisogno insomma di farsi sentire tanta voglia siamo in tanti alla fine soprattutto questo e vi chiedo anche per quanto riguarda la partecipazione come si può come si può partecipare al festival per partecipare alle serate bisogna mandare una mail con i dati personali e la serata la quale si vuole partecipare alla mail di Indomati Festival chiocciolagmail.com cioè perché ovviamente è tutto contingentato immaginiamo sì certamente ovvio ragione chiaro benissimo allora noi ragazzi vi facciamo davvero un grande in bocca al lupo per stasera per tutto il festival grazie e non vediamo l'ora di avervi di nuovo ospiti magari per la prossima edizione magari anche prima speriamo va bene grazie allora grazie ancora e alla prossima grazie a voi grazie alla prossima bene allora anche noi vi salutiamo e diamo spazio alla musica poi torniamo con il TG e un altro ospite a tra poco grazie a tutti